Parla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo notizie entusiasmanti da condividere con te. Prima di approfondire, non dimenticare di lasciare un mi piace per mostrare il tuo sostegno e di iscriverti per non perdere nessuna. Notizia dal nostro amato club, il mitico Fabio Cannavaro. Nome che risuona nei nostri cuori come uno dei più grandi idoli del Napoli. Ha recentemente parlato a calciomercato.com e ha svelato un sogno che sta lasciando emozionati i tifosi. Ha espresso la sua ambizione di allenare il Napoli. Esatto, Cannavaro, che deriva dalla passione e dalla dedizione al club. Ogni tanto dal desiderio di guidare la nostra squadra. Lo capiamo, in fondo abbiamo il Napoli nel sangue, vero? E Cannavaro non fa eccezione. Ha tenuto a vivere in città, sente il malcontento generale e crede che ora sia il momento giusto per l'allenatore scelto dal club con la fiducia. Necessaria per risolvere i problemi che affrontiamo in questo momento. Bene, fan, questa è una notizia che ci fa battere forte il cuore. Immagina Fabio Cannavaro alla guida del Napoli, che riporta la nostra squadra alla gloria. Voglio sapere cosa ne pensi di questa entusiasmante possibilità. Lascia i tuoi commenti qui sotto e condividi le tue opinioni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e, come sempre, continuate a sostenere il nostro Napoli. Forza Napoli sempre!